sembra che a car city si stia facendo la manutenzione delle strade e sembra che edna e billy se la stiano spassando sul lavoro che è una bellezza ciao dain sembra che tu ti stia divertendo guardando i tuoi amici al lavoro dain fai attenzione non vorrai guidare sul cemento fresco oh no se riuscite a metterti in grossi guai mi spiace ma è troppo tardi ormai il cemento è secco e ha fatto presa e adesso che cosa facciamo a cosa stai pensando edna dovremmo chiamare il super camion ma è un'ottima idea facciamolo ciao carla come stai non preoccuparti di tutto ciò la nostra squadra costruzioni sta migliorando tutte le strade di car city sfortunatamente però c'è stato un incidente vicino al cantiere ci serve il tuo aiuto puoi venire perfetto grazie mille carla uniscere Wooo e uniscere e 12 uniscere uniscere Edna e Billy stavano stendendo un manto di cemento fresco quando Dane ha deciso di attraversare la strada. Sfortunatamente ha guidato proprio sopra il cemento fresco e ora è intrappolato. Sembra proprio che ci serva qualcosa di più forte per liberare Dane. Grande super camion! Un trapano gigante farà per noi il lavoro! Però vai con calma super camion! Dane non è così duro come il cemento! Quel trapano è molto più potente di quello che pensassi! Ma queste potrebbero non essere buone notizie! Oh no! Il super trapano sta causando un super terremoto! Super camion! Fermati! Oh mamma mia! Abbiamo fuoco! Ragazzi, datevi una calmata! Dovete stare lontani dal fuoco! Super camion, devi fare qualcosa subito! Non preoccuparti, Dane! Super camion sa che cosa fare per salvarti! Bel lavoro ragazzi! Questo è il lavoro di squadra al suo massimo potenziale! Sì! Il fuoco finalmente è sotto controllo! E tu sei libero, Dane! È stata una situazione molto paurosa, non è vero, Dane? Super camion, grazie per averci salvato da questo disastro! Sei veramente un super eroe! E anche voi due siete stati veramente molto coraggiosi! Ben fatto ragazzi! E ora che c'è che non va ragazzi? Ah, capisco! Tutto il cemento si è solidificato e non potete finire il lavoro! Eh? Hai un'idea super camion? Eccellente! Il cemento è di nuovo morbido e potete finire il vostro lavoro! Ben fatto, super camion! Ci vediamo la prossima volta, amici! Ciao ragazzi! Sembra molto divertente! Io mi domando proprio chi vincerà questa gara! Carl, sembri proprio tu quello in procinto di vincere! Ah, il vincitore è Gerry! Purtroppo, Carl, succede, ma sembra proprio che qualcuno abbia bisogno di super camion! Amber stava facendo giocare i bambini con le bolle di sapone quando Marley ha deciso di fare uno scherzo e ha aggiunto del liquido solidificante alla macchina! Ora le bolle non scoppiano e hanno portato i piccoli in aria! Devi salvarli e velocemente, Carl! Grazie a tutti! Sembra che ai piccoli al momento piaccia parecchia Carl, guarda, c'è Marley Con lui discuteremo più tardi Ora dobbiamo salvare i piccoli In quale veicolo intendi trasformarti, Carl? Un super elicottero, ma naturalmente! E ora salviamo i piccoli Non è così facile come potevi pensare Non è vero? Oh no! Sì, ora la situazione è sotto controllo Super Camion Oh no! Sembra che l'effetto del liquido di Marley stia terminando Le bolle stanno scoppiando Super Camion, i piccoli cadranno a terra se non fai nulla Non preoccuparti, Amber C'è il Super Camion qui Sì, tutti i piccoli sono salvi e sono a terra È tutto ok, Amber! Super Camion ha salvato tutti i piccoli Marley, non vedi quanto è andato oltre il tuo scherzo? Poteva quasi finire con un disastro Ma grazie a Super Camion la situazione è totalmente sotto controllo È una brillante idea Super Camion I piccoli si stanno divertendo moltissimo E in più, cosa importante, in sicurezza Mi domando proprio che cosa vedremo nel prossimo episodio Wow, Gerry sta andando veramente veloce E ora è diventata una gara fuori dal comune Guardate tutti quei fan Gerry, non è carino chiamare Bobby in Lumaconi Stai attento, Gerry Oh no! Oh oh, Gerry, sembra proprio che ci serva aiuto Il dovere chiama Carl Vai, Super Camion! Super Camion, Gerry e Bobby sono un po' più in là Guarda, guarda laggiù, nell'acqua L'acqua con tutti questi rifiuti si sta inquinando Che cosa farai, Super Camion? Guarda, 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 guarda raggiù,eded un camioncino della spazzatura ma è un'idea meravigliosa il super camion si occuperà di tutto questo, Jerry è un'idea eccellente, super camion e guarda, sta funzionando vedi Bobby, non c'è da aver paura super camion è con noi la prossima volta, Jerry, dovrai stare più attento cosa vuoi fare? Vuoi aiutare anche tu ora? è carino da parte tua ma... forse dovresti lasciar fare a super camion Jerry! super camion, veloce! tieni duro, Jerry! Jerry, aggrappati! veloce super camion, usa il tuo ST3000 e questo che cos'è? Ah! 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 Deeduboo! Ah! 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 Un altro ottimo lavoro, Super Camion! Tutti quanti sono in salvo! Ah! 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 Ma che cosa è stato, Gary? Hai sentito quel rumore? Oh, mamma mia! è un fantasma oh no, ti ha trovato abbiamo assolutamente bisogno di aiuto stai qui Gary, vado a chiamare il super camion ciao Carl, abbiamo un'emergenza Gary, il camioncino della spazzatura è stato intrappolato da un fantasma aiutalo per favore, è terrorizzato ah, aham super camion super camion super camion Questo è un fantasma veramente molto veloce Devi essere molto più veloce di lui per prenderlo, Carl E questa volta, in quale veicolo ti trasformerai, Carl? Malabah! Grazie a tutti Un super camion da gara, ma è fantastico Guarda super camion, il fantasma sta tentando di andare via Veloce, corri lui dietro Eccolo Prima La ba buona Siamo E questo è quanto, mister fantasma. Non hai più dove nasconderti. Ehi, c'è qualcosa di strano in questo fantasma. Penso proprio che qualcuno si stia nascondendo lì sotto. Bene, Super Camion, penso che sia arrivato il momento di scoprire chi si nasconde lì. Lo sapevo che non eri un fantasma, vero? Perché l'hai fatto, Jerry? Gary, stavi facendo un po' di pratica per la tua parte ad Halloween? Capisco, comunque Gary si è spaventato molto con la tua azione. Lui ha pensato tu fossi un vero fantasma. Ma ora tutto è andato per il meglio. Il mistero è stato risolto e Gary è salvo. Molto carino da parte tua, Jerry. Sei un vero amico. Super Camion, cosa stai facendo? Super Camion, sei un tale gioccherellore. Ciao a tutti quanti, divertitevi ad Halloween. Buongiorno, Lili. Buongiorno, piccoli. Dove state andando con quegli elmetti in testa? Oh, un'escursione fino al cantiere. Che divertente. E allora fate buon viaggio. Oh, fate attenzione. Iii, attenti. Oh, non c'è nessuno che possa ripristinare il ponte. Lili, puoi resistere fino a quando non arrivano gli aiuti. Ottimo, non preoccuparti. Il Super Camion saprà sicuramente che cosa fare. Carl, c'è un'emergenza sul canale. Lili e i piccoli sono bloccati sul ponte. Puoi aiutarci. È meraviglioso, andiamo! Che cosa possiamo fare? Super Camion! È un'ottima idea. Ci serve un veicolo che possa navigare sul canale. Oh, è un'ottima idea. Wow, una super barca! Ma è perfetta! Oh no, sta cadendo! Veloce Super Camion, prendilo! Oh, ottima presa! Oh, ottima presa! Oh, è un veicolo! Oh, cielo! Veloce, usa la tua rete! Oh, c'è mancato veramente poco! È tutto ok? Oh, è un veicolo! Oh, è un veicolo! Super Camion! Villi non potrà resistere ancora a lungo! Veloce, veloce! Usa il tuo ST-3000! Puoi usare il tuo raggio telecinetico per forzare la chiusura del ponte! Tieni duro, Lily! È tutto ok! Prova un'altra volta! Wow, ecco, ci stai riuscendo! Oh, grazie al cielo! Non preoccupatevi, siete tutti quanti salvi ora! Ah, ed eccoci arrivati! Ah, sono così felice che siate riusciti a fare il vostro giretto, piccoli! Oh, avete ragione, il super camion ha salvato la giornata, come sempre! È un'ottima idea, super camion! Molto probabilmente la squadra costruzioni sa come affrontare il problema del ponte! Divertitevi, amici! Ci vediamo più tardi! Carrie, dove stai andando così di fretta? Sei in ritardo per una consegna, eh? Carrie, hai sentito la sirena? Sembra che Bobby sia in difficoltà! Che succede, Bobby? Bobby, gli squali ti hanno seguito dall'oceano! Stai attento! Carrie, Bobby non riesce a sentirti! Guarda bene la strada che stai... Carrie! Carrie e Bobby sono in pericolo! Carrie è caduta dal ponte, è atterrata su una linfea e ora è nel mirino degli squali! Devi riuscire a salvarli, fai veloce! Guarda, Carl! Carrie è laggiù! Oh no! Con l'apertura del ponte gli squali saranno liberi in un minuto! Fai veloce, Carl! Sai già in quale veicolo trasformarti per salvarla! Ehi, come on! Ah! Come on! Una barca? Ma certo! È un'eccellente idea! Ah! Oh no! Ah! Ah ah! 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 Ah ah! Ah! Ah, ah! degli squali, meglio fare attenzione. Bobby, il super camion ha bisogno che tu rimorchi Carrie arriva! Tieni duro, Carrie! Devi sbrigarti, Bobby, stanno arrivando! Anche tu, Carl, devi agire in fretta! Eccellente idea! Naturalmente puoi usare il tuo ST3000! Veloci, ragazzi! Wow, super camion, sta funzionando! Sta mandando via gli squali! Continua! Wow, super camion, sei riuscito a spaventare gli squali e a mandarli via! Ben fatto! Grazie per il tuo aiuto, super camion! Hai ragione, Bobby, è meglio che questo canale diventi un luogo più sicuro! È un'ottima idea, super camion! Usiamo una rete! Divertitevi, ragazzi! Ciao!